Il progetto c'è mai chiuso nei cassetti degli uffici comunali, rendere accessibili ai disabili i beni culturali di Barretta e al tempo stesso un progetto ma anche il traguardo che da tempo persegue la rete cittadina per le diverse abilità. Far coincidere i due aspetti, riprendere il progetto e tagliare quel traguardo e l'ambizione di chi è tornato a chiedere a gran voce l'abbattimento delle barriere architettoniche per le bellezze barrettane, così da rendere la città della disfida ancora più accessibile ai turisti. Anni fa noi abbiamo già presentato come coordinamento delle persone disabili, abbiamo presentato un progetto in amministrazione comunale, però da allora a oggi poco è cambiato. Diciamo che monumenti ci sono, il Palazzo della Marra è un esempio di bene culturale accessibile e fruibile, anche se non esiste solo la disabilità motoria ma esiste anche la disabilità sensoriale, quindi probabilmente noi suggeriremo all'amministrazione comunale di creare delle guide per i non vedenti e per i non udenti, quindi così avremo veramente un bene fruibile per tutti i cittadini e tutta la popolazione interessata. Un viaggio al confine dell'accessibilità non è solo il titolo dell'incontro ospitato nella Sala Rossa di Barletta, nel corso del quale si è discusso di abbattimento delle barriere nel settore culturale. È stato anche un momento di spettacolo con le letture a cura di Elra Cotugno del Teatro Borgia e di riflessione con l'esposizione dei manufatti realizzati dagli utenti del Centro di Salute Mentale della ASLBAT e dei soggetti adulti, autistici, partecipanti al progetto Etica Lab, le diverse abilità che chiedono a gran voce una città accessibile. La nostra città ha bisogno veramente di essere rivista, di essere rivisitata per l'accessibilità generale, quindi i marciapiedi, gli scivoli, i pali pubblicitari, i pali dell'Enel, del telefono, andrebbe vista in maniera molto molto più complessiva e molto più ampia.